La medicina rigenerativa è una parte importante del futuro della medicina in generale e della chirurgia in particolare. Per quanto riguarda l'ambito di cui mi occupo io in particolare, cioè l'intestino, è sicuramente una forma di trattamento che potrebbe negli anni successivi portare alla formazione di un organo simile a quello che è mancante. Sicuramente l'intestino è uno degli organi più complessi perché è un organo pieno di innervazioni nervose, quindi non è un tubo statico, è un tubo dinamico e il problema è questo, mantenere la dinamicità di un tubo. Noi abbiamo creato in laboratorio con l'Università di Manchester dell'intestino che è funzionalmente accettabile, però il problema è di farlo funzionare con una peristalsi che sia valida e questo è l'unico problema per quanto riguarda l'intestino. Stiamo lavorando su vari modelli e questa è una grossa speranza per il futuro. L'importante è non dare false aspettative ai genitori perché è molto facile uscire con un titolo eclatante che poi magari non rispetta e non riporta la realtà dei fatti. Quindi rigenerare l'intestino è una possibilità. Oggi in laboratorio, domani forse nel paziente, sicuramente l'intestino non cresce, non ricresce spontaneamente. C'è una fase dello sviluppo embrionale nel quale l'intestino cresce, questa fase termina in un determinato periodo. Dopodiché quello che si può fare oggi è di cercare di massimizzare l'uso e la fisiologia e la funzionalità di questo intestino con tecniche di ricostruzione intestinale. Ci sono dei farmaci che sono adiuvanti che possono essere usati per aumentare l'assorbimento, non la lunghezza. Ci sono dei farmaci che sono nel commercio, sono stati stati dei trial mondiali negli Stati Uniti, nel mondo anglosassone, sono anche qui disponibili in Italia ed anche a Firenze, però questi farmaci hanno il vantaggio di aumentare l'assorbimento intestinale. Quindi nel periodo in cui uno prende la medicina e nel periodo nel quale è sotto terapia le cose migliorano, onde poi tornate nella situazione precedente quando si sospende la terapia. Che non è una cosa sbagliatissima, perché poi la terapia cronica si può anche fare, però ancora dobbiamo studiare moltissimo quali sono gli effetti collaterali a medio e lungo termine. Questi sono farmaci nuovi che hanno grosse aspettative e sicuramente quello che adesso sta sulla bocca di tutti è uno in particolare, però ce ne sono tantissimi altri vi posso dire che sono in sperimentazione. Quindi questa terapia ormonale sarà anche sviluppata negli anni successivi e sicuramente oltre a questo farmaco che oggi sta sulla bocca di tutti ci saranno altri che avranno lo stesso valore e la stessa funzionalità, però l'importante è capire dove vogliamo andare e che cosa vogliamo dal farmaco. Vogliamo un assorbimento, non possiamo chiedere al farmaco quello che non può fare, cioè allungare l'intestino. Grazie a tutti. Grazie a tutti.